Faremo pochi allenamenti da qui all'Europeo e quindi la testa, averla sui piccoli dettagli anche in allenamento può fare la differenza. Il 4 gennaio in Croazia si alza il sipario sull'Europeo e già a febbraio c'è il Mondiale in Qatar. Per Sandro Campagna e i suoi ragazzi l'obiettivo principe del 2024 è arrivare all'Olimpiadi di Parigi e vincere medaglie, ma la stagione è che si prospetta per il settebello di traguardi ne ha tanti ed è un tour de force. È un anno che non è mai esistito in 40 anni che tra atleta e allenatore faccio questo sport. Un europeo, un mondiale e un'Olimpiade a distanza di meno di sei mesi non si era mai visto. L'obiettivo di questa prima fase è il raggiungimento della qualificazione olimpica che passa attraverso l'Europeo se lo vinciamo o attraverso il Mondiale perché ci sono altri quattro posti da assegnare, quindi diciamo che statisticamente è anche ancora più probabile, però noi proviamo a fare bene in tutte e due le competizioni. Nella piscina di Terramaini a Cagliari gli azzurri si allenano in vasca due volte al giorno. Schemi di difesa e di contrattacco, potenziamento, circolazione della palla. Faranno le prove generali in un quadrangolare qui in Sardegna con il tenace Montenegro, la Francia, squadra in crescita e l'Australia. E l'ultimo test è prima degli europei, poi sarà battaglia vera. Sono subito partite forti, la prima partita con la Giorgia è quella che sulla carta sembra un po' più abbordabile, poi ci sono Ungheria e Grecia che sono le due squadre finaliste dell'ultimo mondiale, quindi saranno due partite molto belle e noi possiamo giocarceli alla pari. Per due ore gli azzurri seguono le indicazioni di campagna e dei suoi collaboratori nella massima concentrazione, come in orchestra il suo direttore. Dobbiamo pensare giorno per giorno, lavorare giorno per giorno è soltanto questa la chiave per poter andare avanti e per poter ottenere grandissimi risultati, per lavorare su questi piccoli dettagli che possono influenzare l'andamento di una partita che può essere decisiva.